benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale nessun allarme per l'ospedale di termoli per la sanità a disposizione 190 milioni di euro 14 sono destinati al santimoteo di termoli a dichiararlo il commissario toma che spegne le polemiche sorte attorno al nuovo ospedale di vasto toma interviene anche sul subcommissario mancante se non viene nominato la prossima settimana metto in mora il governo dice sentiamo pasquale di bello che lo ha intervistato tutte le regioni fanno investimenti in sanità dice il commissario presidente donato toma il giorno dopo l'allarme nato a termoli per la sorte del santimoteo un procurato allarme dice il commissario quello scattato alla notizia proveniente dall'abruzzo sulla costruzione del nuovo ospedale di vasto frutto aggiunge della campagna elettorale ormai già in corso al contrario prosegue toma termoli verrà potenziato con un investimento di oltre 14 milioni di euro risorse di una partita più ampia che vale complessivamente 190 milioni che il molise si accinge a spendere di questi sottolinea toma 46 milioni saranno destinati al veneziale di isernia facciamo chiarezza una volta per tutti il molise è un piano degli investimenti che prevede 105 milioni di euro in edilizia sanitaria poi abbiamo una delibera cipe numero 51 del 24 luglio 2019 22 milioni 254 milioni sempre per investimenti in edilizia sanitaria abbiamo ancora l'accordo stipulato essenziala legge 241 90 l'articolo 15 che per il molise prevede 46 milioni in faccio cifra tonda 46 milioni per da investire sul presidio ospedale iroveneziale di isernia abbiamo ancora nel pnrr investimenti 1.2 la misura verso un ospedale sicuro e sostenibile santimotio di termoli sono previsti oltre 14 milioni di euro sull'ospedale santimotio di termoli poi abbiamo 8 milioni di euro su pnrr di attrezzature dal commissario ci arriva anche un richiamo al governo nazionale le attività vanno a rilento dice per la mancanza del sub commissario la ex inquilina della struttura anna maria tomasella si è dimessa da settimane perché passata ad altro incarico aspetto la nomina in questi giorni rimarca toma altrimenti la prossima settimana metterò in mora il governo mi sono interfacciato con il governo se la questione non viene risolta entro questa settimana la prossima settimana dovrò necessariamente mettere in mora il governo perché noi senza sub commissario non possiamo stare incentivi e sgravi fiscali dallo stato per imprese innovative e start up sociali che assumono persone affette da autismo sul tema intervenuto il consigliere regionale vittorino facciolla che ha evidenziato come questa decisione sia stata presa senza confrontarsi con ordini professionali e associazioni la disposizione indubbiamente apprezzabile ha dichiarato facciolla ma credo che in quest'ottica si possa pensare ad altri contesti di intervento più adatti non dobbiamo fare l'errore di credere che il tema dell'inclusione dei soggetti diversamente abili riguardi solo una minoranza di persone perché come da tempo sostiene l'ox quando si parla di disuguaglianze e inclusione siamo tutti coinvolti è stato infatti dimostrato concluso vittorino facciolla come un aumento delle disuguaglianze riduca inevitabilmente la crescita economica mentre a milano il san raffaele ha presentato il suo progetto da 300 milioni di euro per il nuovo campus accanto alla città della salute in molise i due istituti di ricerca e cura carattere scientifico neuromed e gemelli stanno combattendo per la propria sopravvivenza che garantisce allo stesso tempo centinaia di posti di lavoro e qualità nell'assistenza clinica ce ne parla in questo servizio enzo di gaetano 100 mila metri quadri di cui 20 mila riservati ai centri di ricerca e 300 milioni di investimento questi numeri del nuovo campus del san raffaele di milano che verrà realizzato entro il 2026 accanto alla città della salute nell'interland nord di milano il san raffaele unirx giusto come il gemelli di campobasso o il neuromed di pozzilli solo che mentre a milano si dà il giusto appoggio a strutture che arricchiscono il territorio in molise sono in tanti che le vedrebbero volentieri sparire il progetto del san raffaele è stato illustrato nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico alla presenza della presidente del senato elisabetta casellati del ministro della salute roberto speranza del presidente della lombardia fontana e del sindaco di milano beppe sala tutto alla luce del sole un triste paragone se pensiamo a quello che accade da noi dove si lavora nell'ombra e succede tutto il contrario a campobasso il gemelli sta cambiando proprietà e gestione passeranno a un fondo svizzero con sede sociale in lichtenstein notizie su chi siano i reali proprietari e cosa vogliano fare ma soprattutto notizie sui servizi e sulla qualità delle future prestazioni per il momento ancora non ne arrivano in via ufficiale accade tutto nell'ombra un'ombra inquietante se pensiamo alle centinaia di dipendenti del gemelli al suo indotto e alle migliaia di vite salvate finora con una qualità dell'assistenza sanitaria che è stata ed è di livello assoluto ma neanche difficile comprendere perché la sanità vaticana stia fuggendo dal molise qui le cose vanno al contrario rispetto alla lombardia qui si fa la guerra non solo ai due irks ma anche a tutte le altre strutture sanitarie convenzionate una guerra non dichiarata ma sotterranea silenziosa senza comprendere che la qualità dell'offerta sanitaria di neuromed gemelli attira ogni anno migliaia di pazienti non molisani nella nostra regione in molise invece si registra solo ostilità diffidenza e freni sulle iniziative dei privati inoltre la regione tratterrebbe anche quanto dovuto dopo aver incassato dalle altre regioni la mobilità attiva per 2019 2020 e parte del 2021 senza considerare come denunciano i privati accreditati la regione molise incassa circa il 12 per cento in più rispetto a quello che poi riversa nelle casse delle strutture convenzionate ironicamente una specie di pizzo una situazione d'allarme sociale perché se dopo aver ridotto in brandelli la sanità pubblica ora si passa alla fase 2 ovvero quella di affamare e far finire in difficoltà anche i privati allora davvero non c'è più speranza bisognerà prendere atto che in molise non ci si può curare né da una parte né dall'altra i dati covid adesso con il bollettino diffuso dall'asrem tre i decessi riportati uno però si riferisce a ieri ed è stato inserito nel report di oggi 371 sono i nuovi positivi ma ci sono anche 525 guariti sentiamo tre nuovi decessi riportati nell'ultimo bollettino dell'asrem con i dati covid in molise un uomo di 62 anni di sesto campano e una donna di 77 anni di campo marino che erano in malattie infettive e un uomo di 73 anni di castelmauro che era in terapia intensiva decesso di cui avevamo già dato notizia nel precedente report salgono così a 560 le vittime da inizio pandemia scende il numero di nuovi positivi 371 su 2584 tamponi processati tra molecolari e antigenici sono di più i guariti 525 il tasso di positività è al 14,3 per cento scendono a 7030 gli attualmente positivi nella nostra regione da registrare anche tre ricoveri uno in anziano fragile due in malattie infettive ma anche tre dimessi da quest'ultimo reparto sono 42 i pazienti con covid al momento ricoverati al cardarelli 4 in terapia intensiva 23 in malattie infettive e 15 in anziano fragile dei 317 nuovi contagiati 60 sono di termoli 49 di campo basso 24 di isernia 11 di ricce e vinchiaturo 10 di larino numeri inferiori negli altri comuni interessati dal virus si è insediato questa mattina nel suo nuovo ufficio alla corte d'appello di campo basso il magistrato catello maresca attualmente consigliere comunale di opposizione a napoli proprio la sua nomina a campo basso che risale a dicembre scorso aveva scatenato una reazione durissima da parte di molti magistrati che contestano a maresca diventato famoso per aver arrestato michele zagaria la presenza contestuale in consiglio comunale a napoli alla corte d'appello di campo basso sono contento di rientrare a fare il mio lavoro aveva dichiarato maresca all'indomani della nomina del csm ma continuerò a dare il mio contributo come consigliere comunale di opposizione nella mia città l'arrivo di maresca oggi in tribunale a campo basso non è passato inosservato anche per la presenza della scorta di auto al seguito che sono state notate da molti cittadini come ampiamente anticipato la firma per la realizzazione della fabbrica delle batterie a termoli è sempre più vicina sulla vicenda interviene anche il ministro della transizione ecologica roberto cingolani che in un'intervista al corriere della sera afferma che l'accordo tra stellantis ministero dello sviluppo economico e il suo ministero in dirittura d'arrivo ormai ha detto il ministro la giga factory si farà a termoli credo che la cosa avverrà nelle prossime settimane sarà michele scasserra nominato dal ministro per il sud mara carfagna gestire in molise i contatti istituzionali per lo sviluppo una cinquantina di progetti finanziati con circa 230 milioni di euro un pacchetto che può ridare impulso allo sviluppo del molise già oggi ha fatto sapere scasserra ho avviato i primi incontri sentiamo giovanni di tota un pacco di milioni che può contribuire a cambiare volto alla regione ma soprattutto a dare un impulso economico alle imprese un futuro di sviluppo a tanti tantissimi comuni a gestire i circa 230 milioni che il governo ha destinato al molise il ministro per il sud mara carfagna ha nominato michele scasserra giovane imprenditore già assessore regionale allo sviluppo economico e al turismo scasserra avrà il compito di mettere in fila i progetti che sono già sul tavolo da qualche anno nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo messi a punto dall'allora presidente del consiglio dei ministri giuseppe conte l'idea quella di riequilibrare o almeno colmare in parte il divario tra le zone svantaggiate del meridione e quelle più attrezzate lo stesso conte incontrò durante un paio di tappe a campo basso i soggetti istituzionali e i capofila dei progetti presentati una cinquantina quelli ammessi a beneficiare del fondo del programma che però anche a causa della pandemia si è al momento arenato già da oggi ha fatto sapere michele scasserra è stata avviata una prima interlocuzione con invitalia e l'agenzia di coesione per fare una prima ricognizione dello stato dei progetti sarà il responsabile unico dei contratti a scandire tempi e modi per far ripartire il meccanismo che rimetterà in moto i contratti istituzionali di sviluppo quello più robusto in molise vede coinvolti una cinquantina di comuni in un percorso che ha come comune denominatore i tratturi ma ci sono tante tantissime idee che possono ridare slancio al territorio regionale al momento la parola d'ordine e recuperare il tempo perso per evitare che i soldi possano andare in fumo chiederemo la possibilità di derogare i termini ha annunciato scasserra già dalla prossima settimana il quadro sarà più delineato aggiunti ai soldi del pnrr i contratti di sviluppo possono diventare la vera svolta per la crescita del molise 100 milioni di euro per realizzare la termoli san vittoria ad annunciarlo la parlamentare vice capogruppo di forza italia la camera dei deputati anna elza tartaglione risorse che figurano nel pacchetto da 6,2 miliardi di euro approntato dai ministeri per le infrastrutture la coesione per gli affari regionali è stato compiuto un passo davvero importante anche soprattutto grazie all'impegno di forza italia nell'esecutivo ha detto tartaglione siamo consapevoli che ci sarà bisogno di ulteriori risorse ma adesso è assolutamente necessario contro scetticismi esterili polemiche portare a compimento un'infrastruttura da troppo tempo attesa dai molisani i nostri cittadini ha concluso la parlamentare azzurra meritano di avere le stesse opportunità dei cittadini delle altre regioni d'italia ed è indiscutibile che un collegamento di questa portata non sia anche un'opportunità per la crescita generale del territorio andiamo a campo basso adesso dove le lampade votive del cimitero restano ancora spente nonostante le lamentele dei cittadini di alcuni consiglieri comunali a distanza di settimane dalla prima segnalazione tutto è rimasto com'era tra la rabbia e la delusione di quanti si recano al cimitero per far visita ai propri cari sentiamo Anna Maria Di Matteo di giorno il disservizio si nota un po' meno ma quando calano le tenebre su gran parte nel cimitero di campo basso scende l'oscurità totale visto che le lampade votive restano desolatamente spente un problema segnalato da molti cittadini da settimane una vicenda sollevata anche dal consigliere comunale di opposizione tramontano che ha presentato un'interpellanza urgente in consiglio ma ad oggi nulla si è mosso siamo andati a verificare la situazione con la speranza che il problema sia stato risolto invece tutto come prima le lapidi soprattutto quelle della la nuova restano senza illuminazione anche i cappelloni multipiano sono al buio eppure il sindaco gravina finito nell'occhio del ciclone aveva assicurato che il problema sarebbe stato risolto nel giro di poco tempo sono invece passate diverse settimane dalle prime denunce arrivate dei cittadini ma a quanto pare sembrano essere cadute nel vuoto in realtà il servizio che fino a poco tempo fa era gestito da una società privata è passato in capo all'amministrazione comunale un passaggio che a quanto pare sta creando un problema che ad oggi non è stato ancora risolto nonostante le rassicurazioni di palazzo san giorgio nel frattempo gran parte delle tombe del cimitero restano al buio tra la rabbia e l'impotenza dei cittadini che vedono negarsi un servizio peraltro pagato manifestazione domani alle 10 e 30 davanti alla prefettura di campo basso organizzata dal comitato rincari infami che lotta in difesa di famiglie e lavoratori alle prese con il raddoppio delle bollette di luce gas emilio izzo portavoce del comitato chiede la massima partecipazione popolare perché si tratta dice di una battaglia per la sopravvivenza di migliaia di famiglie molisane enzo di gaetano ancora l'aumento smisurato dei costi energetici crea tensioni e paure anche in molise le piccole imprese rischiano di scomparire per sempre mentre le fasce deboli della popolazione vivono momenti difficilissimi pensionati e famiglie monoreddito non riescono più a pagare le utenze arrivare alla fine del mese è oramai diventato impossibile e sono sempre di più i cittadini che si rivolgono ai banchi alimentari della caritas c'è preoccupazione raccolta in molise da due comitati cacciamoli e rincari infami cittadini esasperati che chiedono l'adeguamento dei salari attraverso una protesta a campo basso davanti alla prefettura domattina 17 febbraio alle 10 e 30 chiaramente l'invito a partecipare è rivolto a tutti come spiega il portavoce Emilio Izzo e questa volta non chiedo soltanto quello della popolazione ma anche quello di tutti e quelli che detengono il potere politico perché è una lotta che dobbiamo affrontare insieme è un problema governativo è un problema internazionale ma le famiglie sono alla canna del gas aumenti straordinari quindi ci aspettiamo che molti verranno a questa manifestazione perché non se ne può più ormai io non ho l'agenda piena di quelli che mi dicono facciamo qualche cosa ecco la facciamo facciamo questa protesta per sensibilizzare la prefettura per portare la nostra voce a Roma per far capire che quello che il governo vorrà fare da qui e qualche giorno rispetto alle misure che deve studiare due noi le chiediamo in modo particolare l'abbattimento dell'iva è un aumento di 200 euro a tutte le figure che lavorano quindi lavoratori quindi quelli che hanno uno stipendio un salario eccetera eccetera perché a così noi siamo almeno alla metà di quello che ci stanno chiedendo venite a questa lotta perché ci appartiene la giunta regionale ha approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione della trasparenza 2022-2024 un documento con cui ogni amministrazione e ente fanno sapere da Palazzo Vitale secondo una logica incrementale di miglioramento progressivo individua il proprio grado di esposizione a rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi che intende effettuare per prevenirlo la finalità è individuare dove si annidino i principali rischi nello svolgimento dell'attività amministrativa e di predisporre gli interventi organizzativi le misure che meglio adattandosi alla fisionomia dell'ente si ritengano opportuni e attuabili per contenere appunto il fenomeno della corruzione nei pubblici uffici Cittadinanza Attiva Molise in una nota inviata all'ASREM evidenzia criticità per la realizzazione della centrale operativa territoriale Sentiamo Programmare una sanità concretamente attenta ai bisogni della gente Cittadinanza Attiva lo ribadisce sottolineando come nel PNRR sia contenuta l'opportunità del cambiamento con la missione 6 che riguarda le centrali di coordinamento assi su cui poggia la nuova medicina extra ospedaliera con gli obiettivi di una presa in carico completa e una trasversalità tra ospedale e territorio un nuovo rapporto con medicina di famiglia e pediatri di libera scelta rimarca Cittadinanza Attiva e un rilancio del distretto socio-sanitario Per la segretaria regionale Iula Papa occorre concordare una gestione di accesso alle cure incentrata sulla medicina del territorio con al centro il paziente Non sembra però andare proprio in questa direzione il progetto dell'ASREM di realizzare la centrale operativa territoriale spiega sempre Cittadinanza Attiva Molise progetto che continua l'associazione non sembra avere la capacità di operare come un sistema vicino alla comunità progettato per le persone e con le persone e non si rilevano potenziati i servizi territoriali e quindi l'effettiva garanzia dei livelli essenziali di assistenza Cittadinanza Attiva Molise ha inviato una nota all'ASREM avanzando alcune perplessità la prima è che la scelta di una sola centrale spiega ancora non rispetta le indicazioni della riforma del PNRR missione 6 che ne indica una ogni 100.000 residenti o comunque a valenza distrettuale seconda perplessità riguarda la necessità di superare il problema della mancanza cronica di medici specialisti e infermieri senza i quali aggiunge Cittadinanza Attiva non solo non si risolve la mancata cura delle patologie covid no covid malati fragili malati cronici ma non verranno realizzati tutti i progetti di trasformazione a medio e lungo termine della sanità Cittadinanza Attiva infine evidenzia anche l'urgenza di promuovere azioni per informare i cittadini sui cambiamenti in atto già a partire dalla nuova piattaforma CUP che conclude continua a creare disagio ai cittadini sono 3.909 i candidati ammessi al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'azienda sanitaria regionale del molise per la copertura a tempo indeterminato di 45 posti nel profilo professionale di infermiere sono stati 4.015 in totale i candidati ma 106 sono stati esclusi in quanto hanno inviato le istanze di partecipazione con modalità diversa da quella prevista dal bando l'elenco degli ammessi ed esclusi è stato pubblicato sul sito web dell'azienda sanitaria regionale al comune di colle torto è stato comunicato che il comando generale dell'arma ha espresso orientamento favorevole allo spostamento della caserma dei carabinieri a san giuliano di puglia il sindaco cosimo mele chiama raccolta i cittadini per valutare azioni di protesta per scongiurare il trasferimento del presidio sentiamo andrea nasillo con una nota ufficiale datata 11 febbraio 2022 il comando provinciale dei carabinieri ha comunicato al comune di colle torto l'orientamento favorevole espresso dal comando generale dell'arma allo spostamento della stazione dei carabinieri da colle torto a san giuliano di puglia previsto anche il cambio di denominazione del reparto se prima il sindaco cosimo mele ne aveva quasi certezza ma senza conferme oggi è tutto molto più chiaro una paura che è diventata realtà oltre 15 anni fa sono stati spesi oltre 150 mila euro per la ristrutturazione della struttura esistente e oltre un milione tra provveditorato e comune per la realizzazione di una nuova caserma mai costruita mele a timore ci sia una scelta politica alla base e chiama raccolta i cittadini di colle torto per meglio esplicitare azioni manifestazioni e proteste da adottare al fine di scongiurare scritto in un manifesto il trasferimento della caserma ingiusto e illogico ancora adesso non riusciamo a capire i motivi ho interessato roma parlamento con le varie interrogazioni parlamentari che al momento non ho risposte cioè noi non riusciamo ancora a capire i motivi anche perché noi nella lettera l'ho scritto ci riserviamo di procedere per tutti quello per tutto quello che ci è consentito dalla legge e vi inclusa anche una denuncia alla corte dei conti per un danno erariale perché perché inizialmente c'erano 3 milioni per fare la caserma e attualmente ce ne stanno 2 2 2 3 perciò già 700 mila euro non ci sono più qualcuno si dovrà pure chiedere che fine hanno fatto questi soldi e in più anche dei soldi che il comune di coletorto ha tirato fuori perché ha conquistato il terreno 80 mila euro la denuncia alla corte dei conti sicuramente la faremo perché comunque ci hanno creato un danno erariale a noi come come poi non riusciamo a capire per quale motivo viene spostata la caserma dei carabinieri a san giuliano il consiglio dei ministri ha dato il via libera agli emendamenti al ddl concorrenza che introducono la riforma delle concessioni balneari da 2024 i lidi saranno assegnati tramite gara ma c'è di più il governo ha sei mesi per adottare uno o più decreti legislativi che possano semplificare la disciplina sulle concessioni per finalità turistico ricreative tra gli obiettivi tutelare i concessionari senza altri redditi valorizzare l'esperienza nel settore garantire l'accesso ai piccoli operatori migliorare la qualità delle strutture frenare il caro spiagge la confesser centi di campo basso amplia l'offerta dei propri servizi si è infatti costituita la fiba la federazione italiana balneari che avrà come referente antonio visalli l'incarico affidato mi rende particolarmente orgoglioso affermato perché rappresenta un riconoscimento per il ruolo e il contributo che da anni fornisco alle aziende balneari un'esperienza che offro volentieri alla famiglia asec confesser centi ha continuato visalli auspicando nella ripresa economica del nostro settore la diocesi di campo basso in lutto per la morte di don giovanni cerio aveva compiuto 100 anni la scorsa estate ed era il più longevo sacerdote della diocesi la camera ardente sarà allestita a ferrazzano è stata allestita a ferrazzano nella chiesa del paese da oggi alle 17 per i funerali in programma domani pomeriggio il sindaco ha proclamato il lutto cittadino sentiamo enzo luongo aveva compiuto 100 anni la scorsa estate per l'occasione era stata organizzata una grande celebrazione nella piazza di ferrazzano che riunì tutto il paese alla presenza di ben tre arcivescovi se ne è andato don giovanni cerio il più longevo sacerdote della diocesi di campo basso per quasi 60 anni è stato parroco del suo paese dove si era insediato poco dopo essere stato ordinato sacerdote nel 1947 proprio per i suoi cent'anni a settembre aveva ricevuto l'abbraccio dell'arcivescovo di campo basso monsignor giancarlo bregantini del predecessore monsignor armando dini e dell'arcivescovo di ancona monsignor angelo spina don giovanni in quella giornata di festa aveva ricordato i tanti anni passati alla guida della parrocchia di ferrazzano sono stato parroco per 58 anni quindi molti di quelli sono stati battezzati da me altri sono stati sposati crescimati pure fatto tante cose durante i 58 anni ricordo la presenza in chiesa in questi 58 anni specialmente dei ragazzi e dei giovani poi verso la fine purtroppo il dispiacere di non vedere più tanti ragazzi e tanti giovani come erano nei primi anni del mio ufficio di parroco la camera ardente per don giovanni cerio nella chiesa del paese i funerali si terranno domani pomeriggio alle 15 all'aperto per consentire la partecipazione di tutta la comunità il sindaco antonio cerio ha proclamato il lutto cittadino dopo domani venerdì verrà presentato il termoli sea cleaner su un progetto della durata di 18 mesi finanziato con circa 605 mila euro di cui è promotore capofila l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'abruzzo e del molise l'obiettivo è la riduzione dei rifiuti marini attraverso l'attività dei pescatori di termoli sono 76 le imbarcazioni coinvolte e aderenti è tutto termina qui l'ultima edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito e arrivederci